Sarà a Bergamo da ospitare la quattordicesima edizione del Golden Skate Awards, il celebre galà internazionale di pattinaggio su ghiaccio. Domenica 14 febbraio, sulla pista dell'Ice Lab, i migliori pattinatori azzurri ed i massimi interpreti internazionali del pattinaggio renderanno omaggio alla città simbolo della lotta al Covid, in una speciale edizione dal titolo San Valentino on Ice. Uno spettacolo unico e coinvolgente tra musica, luci, volteggi e acrobazie, che vedrà tra gli altri la presenza dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandes, della coppia tedesca medaglia d'oro olimpica e mondiale Aliona Savchenko e Bruno Massot, tra gli azzurri promettono di incantare anche i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grass e le coppie Guignard Fabri e della Monica Guariz.